Pronto il piano di sicurezza sanitaria predisposto dall'Asla Toscana Sud-Est in occasione della giostra del Saracino di domenica 1 settembre, che resta pressoché immutato, ricalcando così quello messo a punto nell'edizione di giugno scorso. La giostra del Saracino è classificata a rischio moderato e elevato e prevede, secondo i dati forniti dagli organizzatori, un afflusso in piazza di circa 5.000 persone, oltre alla presenza di figuranti tecnici e personale di servizio. Il piano di sicurezza della giornata della giostra prevede dunque l'islocamento su piazza grande del disaster manager, 6 sanitari di cui 4 infermieri e 2 medici, 20 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radio della Croce Rossa, 4 ambulanze equipaggiate con defibrillatore, alle quali poi si affiancano fuori dalla piazza altre due ambulanze con la stessa dotazione ed infine un'unità mobile di coordinamento. Il piano operativo prevede l'ispiegamento di personale anche nei giorni delle prove iniziate lo scorso lunedì e che si protrarranno fino a giovedì, a cui si aggiunge la provaccia di venerdì 30 agosto. Prevede poi la suddivisione della piazza in quattro settori dove saranno dislocati gli equipaggi con personale e mezzi di soccorso. Tutte le postazioni sono fuori dalle vie di fuga in luoghi considerati sicuri, in modo da rimanere operativi anche in caso di crash. In questo caso è prevista comunque l'attivazione della struttura campale per le maxi emergenze dalle stire sul prato tra via Buozzi e via dei Palagi. Al termine della giostra, infine, tutte le squadre e mezzi rimarranno in postazione sino alla completa evacuazione della piazza.